Radio Bari.Calt, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon giovedì 29 maggio a tutti, ben ritrovati su Radio Bari.Calt. Io sono Barbara Cirillo e in vostra compagnia per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana. E a proposito di appuntamenti, io non potevo che non parlare di questa rassegna, di questo evento. Direttrice artistica della Città dei Libri, guida alla lettura, Elisa Forte, a cui do il benvenuto su Radio Bari.Calt. Grazie Barbara, grazie. Allora Elisa, io sono molto contenta di averti qui perché insomma eventi così non se ne vedono proprio tutti i giorni. E quindi io sono molto contenta perché è un evento Città dei Libri che si svolge, è partito ieri dal 29 al 30 maggio. Tre giorni dedicati sia ai libri ma dedicati anche ai bimbi. Che cosa è successo ieri? Come avete inaugurato la rassegna? Ieri abbiamo inaugurato la rassegna con una vera festa della lettura, cioè con tanti bimbi. Sono stati centinaia che si sono susseguiti dalle 17 fino alle 21 quasi. Staremo qui a Bari, a Piazza Mercantile anche stasera, sempre dalle 17 e poi venerdì, facendo varie attività. Allora innanzitutto in Piazza Mercantile voi trovate la Città dei Libri che è una cittadella nella città dove ci sono gli stand di otto editori pugliesi. Editori pugliesi che sono venuti lì per presentare i loro titoli. I loro titoli quindi di letteratura per l'infanzia, di letteratura per ragazzi, titoli di libri rivolti ai genitori. Sono spesso libri introvabili nella grande distribuzione. Quindi questo cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare anche un momento di incontro tra le classi editrici e i genitori. Un momento di consulenza, un momento di scoperta. Questo un aspetto del Festival Città dei Libri. Poi ci sono state tante presentazioni di libri. Le presentazioni sono iniziate già al mattino perché il festival si svolge per tappe. Il mattino è itinerante quindi sono gli autori, gli illustratori, gli editori ad andare nelle scuole di Bari e provincia e soprattutto ad andare anche negli ospedali pediatrici del Policlinico, del Giovanni XXIII, del San Paolo. Nel pomeriggio la festa è più rivolta alle famiglie quindi in piazza mercantile. Ieri abbiamo avuto l'inaugurazione anche con i nomi nazionali. Sergio Guastini, il Libraio Magico, il Racconta Libri che è venuto dalla Liguria per intrattenere sia in piazza, in piazza mercantile, i bimbi ma anche nella prima notte bianca per lettori insonni. Ecco perché la cosa più carina di questa rassegna, al di là insomma della presentazione dei libri, dei tanti editori che hanno voglia di farsi conoscere ma soprattutto che possono dare consigli ai genitori anche su titoli da indicare, bambini nelle varie fasce d'età che è fondamentale secondo me. Però la cosa più carina è che questi bimbi, muniti di sacco a pelo, si sono radunati tutti nella Busuan, nel centro culturale a Busuan e hanno passato una notte bianca. Si sono addormentati praticamente ascoltando le letture, le fiabe, le storie raccontate da Guastini. E tra l'altro c'è stata una sorta di gara, no? Perché stamattina che cosa è successo? Come li avete trovati questi bimbi? Io pensavo di trovarli tutti diciamo distrutti e ancora nel sacco a pelo di chiamarli per svegliarli anche perché stamattina sono andati tutti a scuola e loro erano consapevoli anche di questo. E invece li ho trovati lì a dire io sono stato l'ultimo ad addormentarmi, no sono stato io, tu non mi hai visto. Perché c'erano dei premi per questo. E con Guastini che in effetti diceva diciamo il bimbo più attento, il bimbo che è stato l'ultimo ad addormentarsi. È stata un'esperienza veramente magica per questi bambini perché è stata un'esperienza non solo legata diciamo alla promozione della lettura ma anche all'autonomia, una doppia autonomia. Perché diciamo questa notte bianca per lettori insonni ha, se la guardiamo bene, anche tanti risvolti. Per esempio, cioè il genitore che per la prima volta manda il figlio a dormire fuori e che quindi diciamo era trepidante ieri sera quando lo ha affidato a noi. Però è stato benissimo, è stato diciamo un impegno per il genitore e molti hanno detto non chiamiamo, ce la facciamo e sono stati bravissimi. Nessuno ha chiamato stanotte anche se avevano un numero di telefono di riferimento. Avete dato il numero di bambini? Volevamo farlo però ci sembrava atroce. E quindi li abbiamo trovati lì veramente entusiasti di questa esperienza. Guastini che cosa ha fatto? Li ha intrattenuti con tra l'altro libri bellissimi. Lui è arrivato dalla Liguria con questi tre trolli pieni di libri a 60 libri. Molte sono produzioni introvabili, sono delle vere e proprie opere d'arte. Sono anche dei pop-up a misura di bambino, quindi tu puoi immaginare quando i bimbi vedono questi libri e restano lì incantati. Ma resteremmo incantati anche noi, sono sicura. Lo rifacciamo stasera, lo rifacciamo stasera di nuovo con i bimbi più grandi dai 9 agli 11 anni. I genitori saranno un po' più tranquilli. Allora Elisa per avere tutte le informazioni sul festival Città dei Libri Allora potete leggerci su cittadeibimbi.it c'è un'area dedicata a Città dei Libri Potete leggerci ancora sulla pagina facebook cittadeibimbi.it Lì trovate gli aggiornamenti e troverete anche le interviste che la redazione di Città dei Bimbi ha realizzato ieri, per esempio l'intervista a Claudia De Lillo Elasti, la mamma blogger per eccellenza, anche lei è stata protagonista ieri al nostro festival e ha presentato di rifare e baciare. Quindi tutti gli aggiornamenti su cittadeibimbi.it Ok, io ringrazio davvero Elisa Forte, mi raccomando seguite questa rassegna ci sono ancora due giorni e oggi e domani per far dire i vostri bimbi a suon di letteratura, ecco possiamo dirla così Grazie ancora a Elisa Forte Grazie, vi aspettiamo stasera e domani sera dalle 17 in poi in Piazza Mercantile a Bari A tra poco con un punto con Grazie a tutti